Ma con l'acqua lo dobbiamo fare? Nah, prova a non ridere, è anche verde, verde Ah, chi verde, verde No, allora, è un prova a non ridere particolare Nel senso che se ridiamo, ricomincio ad accapa il video Che noia E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video No card c'è scritto lì, eh Ma perché mi dici sempre la stessa cosa? Ah Puoi farti un attimo da... Ma posso stare? Benvenuti nella mia vita Lo sfondo delle mie mutande Ma lascerò tutto così perché è il blog della diretta La rimango nel video Oggi siamo qua in una prova a non ridere Eh? Le idee scarseggiano, amici miei Però è una prova a non ridere particolare Allora, questo movimento non l'ho fatto per niente per mettere in mostra Ah, seguite il mio canale YouTube, ragazzi Quindi se rideremo, il video dovrà ricominciare da capo Ok Lo proviamo a fare con Nico Qualsiasi cosa che se è clickbait lo voglio fare con Nico My caterpillar never turned into a butterfly That's a cheater Oh Ma porca tro... Ma gra... Ma ci mancherebbe Minchia, il le mordi la zampa Poi ha quei c***o di chihuahua E sono 90% in rabbia Chiaro? Tranquillo Io non ho riso Ho fatto... Senza denti Senza denti Così mi rendiamo otto anni Per favore sto lavorando Se ridiamo allo sto punto di prima siamo due coglioni Che poi si ferma, si ferma per far si fare questa cosa Questo fa morire, questo fa morire su TikTok I polli, che animali fantastici Spacca il vetro Non ridere Che sennò dobbiamo ricominciare a capo Bellissimi animali, gatti Intelligentissimi A me c'è una troppo ridere Ma che è? Ma che è? Non è una boffa in giusto di casa Ma perché? Tu telefono, tu telefono, tu telefono Anziu a aspettare Ha saputo che ha preso la schermata di gioco Ma perché hai cominciato a fare questa roba? Cioè tu qua gli aspetti che... Tu te li fanno, tu te li fanno... Le coro incontro appunto a cui... Vabbè Questa casca, signore È un vero serpente, suga Vi ha finito? Senti con me, bro Cazzo, non c'è capo Se entri nel mood risata, arrivi per tutto Eh, infatti è quello il problema Perché poi li devi rivedere Devi raffrontare le tue boss e salire di livello Ma poi che cazzo sono questi russi con la bocca? Ma poi non si capisce perché sto non andando un gioco Senti, senti Ora c'è una clip che non l'avevo capito Ah, ok, ok Questa è horror Confusissima Ma che cazzo sono polli? Sono polli? È impossibile ancora, ma è ovvio Ma cos'è? Nooo È un cane Ma che cane? Sono due persone su... Ma che cazzo è un cane? Mi sembra un cane da dietro Birb.jpg ha smesso di... Che cazzo vuol dire? Mia madre pensa di avere una relazione con Vladimir Putin Era tipo uno di quegli episodi di macchie imbarzanti Ma picchi? Ma picchi? Non è ciocci No, fra... Questa ce l'appuntiamo 100% come prossimo scherzo Ah, bello Questa è durata... 30 secondi Questa è una reazione esagerata non l'avevo nessuno Sai Ah, cazzo non conoscivo il gioco Ma perché? Cazzo che questo mi fa la vite Oh, grande Fighissimo questa cosa No, io non ho riso, io non ho riso quindi non può andare niente Come no? Io non ho riso però mi è piaciuto molto Ah, bisogna ridere entrambi? Ok, mi piace questa cosa così eludiamo il sistema Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bello questo Ah, è scappato la nicina Vai, vai, vai Bello questo gioco E cosa è, una prova a non ridere con Robbite Ma cosa è? Che cazzo è? Non me la sanno ahahahahahahahahahah C'è un'esagerazione la tua però Ma perché? Ma di ogni cosa? 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 Ma di questo video è il numero uno Dai, cioè dai, sei un genio che ha fatto questo video Dai, come cazzo è che vorrei? Dovrei ricomincere 106 volte Questa è famosissima, dai Ma vabbè, vado a sbattere la testa No, dai, bravo Eh, abbiamo riso entrambi Ma tu potavi estenerti un attimo, hai risotto il video Questo video è pazzesco, guarda Ma tu lo sai cos'è questo? Ecco perché non ridi, ecco quando Super Mario prende la stellina E' diventato tutto arcobaleno Dai, questo video è il genio a loro Ma tutti così sono questi video? Questa è famosa Questa è famosa Incredibile Ah, è proprio, è così, è così il video, ok Questo bambino me lo ricordo, è famoso questo meme Mamma mia Questo pure Madonna, che anni sono Va, non torniamo indietro perché ci sono sei anni Ah, è senza è sempre lei il terreno tomas ok ok questo finalmente era figo questo finalmente era figo nuke che dire ragazzi veri bello veri top ci ritroviamo la prossima settimana qui a fare un nuovo video noi vi salutiamo vi mandiamo un grande bacio seguite il mio e non il suo di canale che altro dire fai un urlo e poi lo monti a musica